Questa volta la partita punto a punto ha premiato gli avversari. La VL cade a 30 79 a 75 in una trasferta nata male fin dal pre-gara per le inattese defizioni di Kravic per Borsita al gomito e di Totè per influenza solo parzialmente compensate dal ritorno sul parquet di Capitano Delfino. Eppure la VL approccia bene la gara e si cala in una battaglia intensa che chiude avanti per tre quarti salvo subire la rimonta della Dolomiti Energia che gioisce dopo lunga rincorsa. A Pesaro non bastano i 20 punti di Moretti e 18 di Abdurrahman per evitare la sconfitta. Nel calcio la vispesero 48 ore dopo l'esonero di Davide Sassarini è scesa in campo nello scontro salvezza di Imola con la soluzione protempore del vice Renzoni in panchina. Al Galli uno scialbo 0-0 in cui le due squadre non hanno nascosto i rispettivi stati di crisi. Per la vis la classifica resta invariata, Biancorossi un punto fuori dai play-out contrassegnati dalla stessa Imolese. Ora la vis ripartirà da Oscar Brevi. È infatti questione di dettagli l'ufficialità che vedrà sulla panchina biancorossa il 55enne milanese già tecnico di Fano, Renate, Olbia e Gianna Erminio. In Serie D invece il Fano riparte dopo due sconfitte consecutive espugnando 2-1 Monte Giorgio grazie alla doppietta di Broso che ribalta l'iniziale vantaggio di Tencorang. Nel calcio a 5 torna la vittoria l'Ital Service Pesaro che nella lunghissima trasferta sarda di Sestu batte 4-3 il Monastir nonostante l'assenza per squalifica di De Oliveira. Al Flan, Canal, Pires e Tony Dandel firmano una vittoria rigenerante in vista della Supercoppa di sabato a Genzano contro l'Olympus Roma. Nella pallavolo serata no per la Megabox Vallefoglia che cade 3-0 sul campo piemontese della Fenera Chieri.